Carissimi amici, dopo la semifinale di The Voice abbiamo finalmente i nomi dei quattro finalisti e sinceramente scommettevo giusto su Tania Borgese che è riuscita a guadagliarsi la finale. Una delle sorprese è stata Charles Rabland per il team Killa che secondo me è stata una delle migliori voci di The Voice. Per il resto spero che venga Tania perché lo meriterebbe, però sono quelle cose che non si sanno, potrebbe succedere di tutto. Per il resto sono d'accordo con le scelte del pubblico perché i Wolf non meritavano di venire in finale sinceramente, anche se avrei preferito Francis Ascione del team Killa diciamo, però va bene così dai. Speriamo che possa vincere Tania perché la vedo fra le favorite, però anche Elia Zambolin del team Pezzali non è male come voce. Anche perché insomma è anche padomano nostro quindi lo proporrei come in seconda posizione. Vediamo insomma. Per il resto è stata una bella edizione e vedremo quello che accadrà. Un abbraccio va a Tania come va a tutti i talenti di The Voice che abbiamo visto. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao. 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 Grazie a tutti